Non aveva voluto sorprese Marco Polo per il suo ultimo viaggio. Dopo aver predisposto la propria sepoltura nella cappella di San Sebastiano, presso il monastero di San Lorenzo, accanto ai parenti più stretti, col testamento si era premurato di rimettere i debiti, di beneficare chiese e monasteri, di affrancare Pietro, il suo schiavo Tartaro. Aveva sistemato tutto per bene, tutto con cura, tutto nei minimi dettagli, come alla vigilia di ogni partenza. Fedele alla mentalità e al costume che ne avevano improntato l'intera esistenza. Del resto, col Trecento, si era già fermato il concetto di purgatorio, l'intermezzo passeggero per il paradiso, e quindi abbreviarvi la permanenza, abbreviarvi i tormenti, era possibile disponendo appunto la celebrazione di messe di suffragio e insieme facendo donazioni alla chiesa o anche aiutando i bisognosi. Ma non soltanto della sua anima si era preoccupato Marco Polo, il grande viaggiatore veneziano, giacché con l'esplicitazione delle volontà testamentarie si era anche premurato di lasciare ai propri cari una tangibile e anche cospicua eredità. Era il lascito di un facoltoso mercante ma anche di un influente scrittore, di un uomo che aveva fatto buoni affari e che era stato autore di un celebre, di un quasi incredibile libro di viaggi. Quel milione che più di tutti aveva meravigliato e non di rado sconcertato, rivoluzionato la percezione che del mondo orientale, la percezione che del Levante si era cristallizzata nella geografia mentale euro-mediterranea. Alla vigilia della epopea di Marco Polo, infatti, in Europa ristagnava una percezione abbastanza confusa, abbastanza approssimativa di quelle che erano le popolazioni e le tradizioni asiatiche. Si scrutava l'Asia più estrema ed era come sprofondare nell'ignoto con un sentimento sfuggente, oscillante, un sentimento imbilico fra attrazione e repulsione, tra fascino appunto e ripugnanza. E questa oscurità di uomini e di terre lontane generava mistero e nel mistero attecchiva il mito, proliferavano credenze religiose, montavano speculazioni teologiche, per cui paesi lontani, paesi impraticati ed etnie misconosciute venivano esplorati più spesso dalla fantasia. E le contrade orientali, quindi, le contrade del Levante diventavano un universo dove riversare di volta in volta attese e paure, speranze e angosce. Uno specchio diventava, quindi, l'Oriente in cui si riflettevano pezzi consistenti dell'anima europea. Le preziose mercanzie che arrivavano in Occidente dal Levante si portavano dietro storie mirabolanti e quindi la psicologia dell'Occidente poteva proiettarsi in un locus fabule sovrabbondante di stranezze. C'erano, per esempio, creature che avevano la faccia piantata nel torace o anche altre creature che usavano il loro unico enorme piede per incedere velocissimi e, all'occorrenza, per ripararsi, come vedete, dal sole stesi sul dorso, come un ombrellone, insomma. Poi c'erano una miriade di esseri fantastici, prosperavano, per esempio, i basilischi capaci di uccidere con lo sguardo, amazzoni indomabili, serpenti, bipedi e poi anche unicorni, grifoni, chimere, dragoni. E tutto ciò rappresentava un repertorio bestiale, leggendario, che stratificandosi nella mentalità euro-occidentale aveva finito per essere riprodotto dove? Dove troviamo tutti questi esseri strani? Li troviamo sui cornicioni delle chiese, li troviamo nei capitelli di cattedrale e di chiostre, anche se andiamo qui a fianco troviamo dei capitelli con esseri fantastici, no? come pure nelle miniature dei codici o anche sui pavimenti delle basiliche cristiane, come la famosa cattedrale di Otranto. E quindi questa era la percezione che si aveva del mondo orientale alla vigilia dell'epopea di Marco Polo. Ma almeno due fenomeni dovettero a un certo momento contribuire a squarciare questo velo di inconoscibilità e ad avvicinare realtà che per secoli erano rimaste staccate l'una dall'altra. E quali erano questi fenomeni? A Occidente la cosiddetta rivoluzione commerciale e a Oriente la rivoluzione nomadica. All'intersezione di questi due fenomeni si pone appunto Marco Polo, un personaggio di straordinaria modernità capace di cogliere immediatamente i mutamenti in corso e di valorizzare gli esiti di questa storia che egli si trovava ad attraversare. Ora, partiamo dal capire che cosa fosse questa rivoluzione commerciale. In molte regioni europee, per diversi secoli, il commercio era stato considerato detestabile, disdicevole, indegno, contrattare, permutare, affannarsi nell'acquisto e nella vendita, interagire con gente di ogni risma, non era qualcosa adatto a un nobiluomo. Un nobiluomo non vi si sarebbe mai cimentato. E anche in un regno progredito come la Francia, solamente nella seconda metà del XV secolo, sarà permesso agli aristocratici di commerciare per mare senza perdere il proprio titolo. Quindi trafficare, comprare della merce per rivenderla a un prezzo più alto generava un lucro che i benpensanti giudicavano sommamente ingiusto. Per i padri della Chiesa, nelle compravendite, poteva facilmente insinuarsi il peccato. E che il mestiere del mercante non fosse grato a Dio, lo avevano ripetuto in molti fra i teologi medievali. A cosa si faceva riferimento? Beh, da quando Cristo aveva scacciato i mercanti dal Tempio, un sospetto, diciamo così, millenario, si era appiccicato alle attività mercantesche. E quindi, nell'etica cristiana, la mercatura, con la sua ricerca insistita del tornaconto personale, rappresentava spesso l'emblema delle più spregevoli incombenze terrene, transeunti, rispetto, e quindi da contrapporre rispetto alla purezza delle più gloriose occupazioni celesti, che invece erano considerate eterne. In una società come quella medievale, che gli schemi religiosi avevano preteso di impostare soltanto su tre categorie, cioè coloro che pregavano, il clero, coloro che combattevano, i cavalieri, e coloro che lavoravano, gli agricoltori, le mansioni commerciali erano state a lungo considerate moralmente riprovevoli. Chi le esercitava era stato assimilato a una specie di paria. Tommaso d'Aquino aveva asserito che il commercio ha in sé qualcosa di vergognoso, Tommaso d'Aquino. E quindi c'era questo assioma che si era consolidato, un assioma che vedeva il mercator peccator, impastato spesso dall'asserto dell'avarizia. E tutto ciò aveva venato le convinzioni comuni. Le liste delle professioni impure, c'erano delle liste di professioni impure al Medioevo, delle professioni disoneste, ovviamente annoveravano il mestiere del mercante. Quindi, dappertutto, i mercanti, i commercianti, erano avvertiti come sovvertitori della morale. I preconcetti erano rimasti immutati e questo, nonostante da più versanti, compreso il versante ecclesiastico, si fosse riconosciuto il ruolo ormai essenziale dei commerci in una società che delle mercanzie, dei generi di consumo più disparati, mostrava, tra il 1100 e il 1200, un desiderio crescente. I sovrani, l'aristocrazia, come avrebbero del resto potuto rinunciare a sfoggiare la propria eccellenza, se non con l'uso di merci sofisticate che, importate da paesi spesso remoti, dovevano soddisfare la loro voglia di prestigio? E come provvedersi di vesti, di tessuti di lusso, di vasellami pregiati, di pietre preziose, ma anche di articoli ordinari non prodotti sul posto, se non con l'operato dei mercanti? Quindi, nel pieno Medioevo, l'evoluzione dell'economia occidentale aveva reso indispensabili questi mercanti. E con l'affermazione dei comuni, delle istituzioni comunali, con l'inurbamento dei contadini, con l'incremento demografico, nelle città medievali il ceto mercantile aveva accumulato una potenza economica e politica inusitate, da cui non sarà più possibile prescindere. Giocoforza la rinnovata prosperità degli organismi urbani, la crescersi dei consumi comportavano, che cosa? Una riabilitazione del mercante. E quindi, da un certo momento in avanti, il mercante non è più visto come un paria. Già Jacopo da Varagine, autore della leggenda aurea, vescovo di una Genova mercanteggiante per Antonomasia, il detto era genovese, dunque mercante, arriverà a sostenere che la ricchezza, anche quella ottenuta con la mercatura, aveva poco di indegno, perché ricchi, per esempio, erano stati gli stessi patriarchi biblici. E quindi, al tempo di Marco Polo, e quindi nel XIII secolo avanzato, cominciava a entrare nella psicologia collettiva l'idea che il ruolo del mercante non fosse più troppo disonorevole. Peraltro, a Venezia, che sui commerci aveva basato lo sviluppo di un grandioso impero marittimo, acquatico, mediterraneo, non si erano mai preoccupati di questa questione. Anzi, da sempre Venezia pullulava di volti, di accenti forestieri, di barche, di chiatte che scivolavano sull'acqua, attraccando vicino ai magazzini, e quindi artigiani, cambiavalute, drappieri, fruttivendoli, fornai, macellai, pescatori, allineavano l'abbondanza dei loro articoli in una babele di negozi e di bancarelle. Venezia vedeva un diavai di pellegrini all'imbarco, di marinai di ogni risma, di prostitute per ogni tasca, che facevano la spola fra i navigli addossati alle rive e le taverne disseminate per i campi e le viuzze veneziane. E quindi immaginiamoci questa quantità di battelli che scaricavano sui moli di Venezia cera, olio, miele, formaggi, cereali, vini cretesi, granaglie della Puglia, limoni, uva secca di Corfu, zucchero e cotone di Cipro, in un bazar che si tingeva d'Oriente quando le mercanzie erano la seta, erano le porcellane cinesi, erano gioielli finissimi. E quindi poi insieme a questi arrivavano cannella, chiudi di garofano, zenzero, noce moscata, profumi, balsami, sostanze medicamentose che penetravano con le loro fragranze le stradine di Venezia, le piazzette e quindi facevano quasi immaginare, indovinare il Levante, l'Oriente. E quindi questo lievitare dei commerci aveva allargato le prospettive d'azione degli imprenditori di Venezia che appunto non si erano mai fatti remore, non si erano mai fatti scrupoli nell'esercitare una forma intensa, intensiva di mercatura. E quindi questi imprenditori venetici, ma non solo, genovesi, pisani, erano pronti a spingersi sempre più nei luoghi che meglio avessero risposto alle loro esigenze. E qui cominciamo a parlare della rivoluzione nomadica, perché se da Occidente abbiamo questa spinta, questa voglia di beni di consumo che provocano questa rivoluzione mercantile e la riabilitazione sociale, morale potremmo dire, del mercante, dalla parte opposta del mondo, cioè dall'estremo Oriente, questa spinta a cercare nuovi mercati era stata recepita con buona facilità. Perché? Perché a semplificare le comunicazioni fra l'Europa e l'Asia, queste comunicazioni transcontinentali, ad aprire ai mercanti occidentali luoghi rimasti per lungo tempo inaccessibili, aveva contribuito l'estendersi dell'egemonia mongola. Un'egemonia derivante dall'opera senza precedenti di Temujin, un condottiero meglio conosciuto con l'appellativo di Gengis Khan. Sovrano universale significa Gengis Khan. L'espansione Gengis Khan era stata decisiva per la connessione dell'Oriente con l'Occidente. Pensate un po' che ancora nel XVII secolo riecheggiava un detto famoso, e cioè che sotto il regno di Gengis Khan ogni paese fra l'Europa e l'Asia godeva di una tale tranquillità che una vergine nuda con un piatto d'oro di perle in testa avrebbe potuto avanzare da Levante a Ponente senza subire da alcuno la minima violenza. Quindi si era creata una specie di nuovo ordine mondiale con l'Impero Mongolo e a determinare questo prodigio era stato appunto Gengis Khan. Gengis Khan era un self-made man, potremmo dire con termine contemporaneo, un orfano di padre che fra il XII e il XIII secolo aveva avuto la capacità di aggregare stuoli di tribù centroasiatiche che fin lì erano stati in perenne conflitto fra di loro. E quindi tutti questi clan, queste tribù abituate fin lì a vagare sparpagliate per le grandi steppe centroasiatiche, erano stati raccolti politicamente e ideologicamente sotto un unico capo che ne aveva esaltata l'indole fiera, la tempra inossidabile, questi cavalieri della steppa pronti a tutto. Quindi i mongoli erano stati l'elemento trainante della cosiddetta appunto rivoluzione nomadica. Essi erano in posti dovunque, avevano conquistato la Cina con Pechino nel 1215, si erano impadroniti di tutta l'Asia centrale e nessuno aveva saputo resistere all'orda azzurra. Orda azzurra, cosiddetta, perché traeva nome dall'azzurro cielo, cioè il divino Tengri, il nome tutelare dei mongoli. E i mongoli si sentivano ispirati dal divino Tengri, da questo grande cielo azzurro che era la loro divinità principale. E quindi nessuno aveva saputo resistere ai mongoli, non avevano resistito le civiltà sedentari come i cinesi, non avevano resistito i musulmani dei floridi regni medio orientali. Ed era scatuito quindi il più grande impero, il più vasto impero che la storia dell'umanità possa ricordare. Dilatato in circa, diciamo così, tre quarti di secoli da Gengis Khan e i suoi successori, dilatato dall'estremo oriente fino all'Europa e dalla Siberia all'Himalaya. Per un po' di tempo aveva tremato anche l'Europa, dove i mongoli arrivarono nel 1240. E dove si sparse il cosiddetto, ce lo ricordano le fonti del periodo, Timor Tartarorum, la paura dei tartari, che in realtà non si chiamavano tartari, si chiamavano tatari dal nome di una delle tribù che facevano parte di questo consesso nomade riunito da Gengis Khan. Però quelle orde terribili, ululanti, che si lanciavano al galoppo senza conoscere ostacoli, sembravano essere state partorite dal tartaro, dall'inferno. E quindi, ecco che, gli era stato affibbiato il nome di tartari e non tatari. Di fatto, dopo aver vinto tra il 1239 e il 40 contro tutti gli eserciti europei che si erano schierati contro di loro, ecco che i mongoli si erano messi persino a battere moneta. Quando si comincia a battere moneta, che significa? Significa che si vuole istituire un'entità statale. Si erano messi a battere moneta e, probabilmente, oggi, magari vivremo tutti nelle tipiche tende mongole, le iurte, queste tende a forma di trullo, diciamo così. Se non fosse che un episodio fortuito, come spesso accade nella storia, dovette fermarne l'avanzata. Che cos'era successo? Avevano pianificato i mongoli di arrivare fino all'oceano Atlantico, già dal 1235, ma a un certo momento muore il loro gran Khan, il capo, il figlio di Gengis Khan, o Godei si chiamava. E il successore andava eletto anche dai comandanti di quelle schiere mongole che si trovavano in Europa. E che quindi furono costretti a tornare indietro, poiché non esisteva ancora il voto all'estero, diciamo così. E di fronte a questa esplosione della potenza mongola, una volta passato il timor tartarorum, la paura, il terrore dei tartari, l'Europa cristiana cominciò a tentare di avvicinarsi a questo Oriente invincibile, a questo Oriente potente, su impulso del papato o anche di alcuni regnanti cattolici, come re Luigi IX di Francia, San Luigi. E a trattare con i mongoli affinché potessero in qualche maniera creare una specie di coalizione con i cristiani d'Occidente, schiacciando in mezzo chi? I musulmani, quelli della Terra Santa, no? A trattare con loro erano stati mandati i più esperti ambasciatori del periodo. E chi erano i più esperti ambasciatori del periodo? Erano i francescani e i domenicani, che non avevano paura, che si mettevano sotto i piedi migliaia di chilometri di strada. Non a caso noi abbiamo due cronache molto interessanti prima di Marco Polo. Quella del francescano Umbro Giovanni da Pian del Carpine, che nel 1245 parte verso l'Oriente cercando di cattivarsi le simpatie dei mongoli, e quella del fiammingo Guglielmo di Rubrucca, anche egli un monaco, che parte invece nel 1253. Entrambi riescono a raggiungere il Levante, ma mancano l'obiettivo. Il loro compito era quello di intrecciare relazioni politiche e religiose, che però falliscono. Perché falliscono? Perché l'approccio di questi ambasciatori è paternalistico, è vagamente coloniale, è basato su richieste di conversione o di alleanze appunto in funzione antislamica, che dovettero suscitare nei confronti dei Gran Canna reazioni orgogliose, reazioni piccate. Perché? Perché dei dinasti quali erano i Gran Canna, che con i loro eserciti tremendi ritenevano di dover imporre sulla terra l'ordine che il Tengri, il loro nume tutelare, aveva stabilito in cielo, come avrebbero potuto accondiscendere a quelle richieste? Come potevano piegarsi al cristianesimo e allearsi su un piano paritetico con coloro che avevano più e più volte sconfitto in battaglia? Non poteva funzionare. Non poteva funzionare l'abboccamento in quella maniera. Non poteva funzionare questa presunzione di superiorità con cui l'Occidente e la cristianità avevano cercato il contatto. Per risultare efficace, l'approccio all'Oriente doveva essere diverso. E innanzitutto doveva essere scevro da quel preconcetto di potervi esportare una civiltà migliore. Qualunque dialogo prescindesse da una mutua convenienza era fatalmente destinato a naufragare. E quindi il codice d'accesso per il mondo orientale sarebbe stato un altro, e cioè la forza immediata e diretta del commercio, la forza del reciproco interesse, con il, possiamo dire, il vigore incruento di una forma di interazione, per alcuni versi possiamo dire anche una forma di conquista, intrinsecamente pacifica, autenticamente pacifica. E quindi se questa unificazione delle aree euroasiatiche, questa cosiddetta Pax mongolica, era stato il fattore fondante che aveva distanziato, il fattore scontale che aveva ricucito la distanza fra Asia e Europa, ecco che in questo grande contesto si riattivano i percorsi della via della Sita, proprio perché c'era questa unica fascia, sottoposta a un unico controllo, che poteva essere percorsa su più linee, un percorso settentrionale, un percorso centrale, un percorso meridionale, con in più delle, come dire, delle varianti, come la via del lapislazuli, pensate un po' che c'erano dei lapislazuli dell'Afghanistan che arrivavano nell'Italia, soprattutto meridionale. Con l'Università di Bari, per esempio, abbiamo analizzato l'azzurro degli affreschi, l'azzurro delle ceramiche, l'azzurro dei codici miniati, e abbiamo visto che questo azzurro così intenso era realizzato con il lapislazuli di cui ci racconta Marco Polo, il lapislazuli afgano, appunto. Quindi abbiamo questa grande riapertura dei collegamenti fra l'Europa e l'Oriente. E oltre alle vie terrestri c'era anche la via marittima della Sita, che partiva dalla Cina, transitava per le coste del sud-est asiatico e approdava al Golfo Persico, al Mar Rosso, al delta del Nilo. E Venezia era la cerniera, ad Alessandria d'Egitto come in altri porti, di questi traffici fra l'Europa e l'Oriente. Venezia era capofila di attività che andavano esercitate con perizia, però. Perché dico questo? Perché, guardate, non si diventava mercanti per caso. Per avviarsi alla professione del mercante esisteva una specifica preparazione, una particolare scuola in cui magari del latino e della grammatica si poteva anche fare a meno, si riteneva lo stretto indispensabile. All'educazione di un mercante convenivano piuttosto le scienze più attinenti alla pratica quotidiana del commerciare, del computare, del dividere, del moltiplicare. perché bisognava operare compravendita di mercanzie, bisognava conoscere le conversioni monetali e ciò richiedeva una preparazione che le scuole religiose, tutte tese ad approfondire i testi sacri e a ridurre la matematica alla mera osservazione del calendario, non potevano fornire. Quindi il clero, col suo tradizionalismo didattico, non poteva soddisfare gli specifici bisogni del ceto mercantile e l'istruzione laica risultava quindi più confacente ai giovani che, spesso nati da mercanti come Marco Polo, erano votati a seguire le orme paterne, istruendosi in che cosa? Nelle discipline matematiche. Non è un caso che a introdurre in Europa il numero zero le cifre indo-arabe, che erano più idonee alla contabilità rispetto ai vecchi numeri romani, chi è stato? Lo sappiamo, è stato Leonardo Fibonacci. Ma chi era questo Leonardo Fibonacci, questo insigne scienziato? Beh, era figlio di un mercante, sono i mercanti che aprono alla rivoluzione anche nei settori della scienza. E quindi era figlio di un mercante pisano e aveva appreso i fondamenti algebrici, la geometria araba, durante i viaggi compiuti nelle regioni islamo-mediterranee assieme al padre. E quindi uno bisognava conoscere matematica, conversioni, l'altro elemento importantissimo per un mercante che doveva formarsi, quale poteva essere? La conoscenza delle lingue. Perfetto. La conoscenza delle lingue. E quindi si imparava in queste scuole per, chiamiamole così, per mercanti in erba, si imparava l'inglese, il tedesco, il russo o l'estone, che servivano per operare nei mercati dell'Europa settentrionale, come anche il greco-bizzantino e l'arabo, che erano più diffusi in ambito mediterraneo. Oppure c'erano addirittura dei frasari che contenevano i rudimenti delle grammatiche dell'Asia vicina o del Medio Oriente, con in primis il persiano, che era una delle lingue franche del periodo. E quindi, modellata su reali esigenze professionali, la formazione del mercante appariva davvero moderna ed efficace. Noi abbiamo alcuni documenti di queste scuole, come lo Zibaldone dal Canal, che è un sussidiario del primo Trecento, che raccoglieva esercizi per studenti di queste scuole. E che cosa ci troviamo? Ci troviamo esercizi su quelli che erano il valore delle merci, sulle equivalenze dei pesi, misure e monete di varie località, nozioni di astrologia, previsioni meteorologiche e poi anche elementi di religione delle varie località, cronache storiche e persino gli atteggiamenti di cortesia da mantenere con gli estranei in ciascuna località. Ora, questo era il bagaglio che dovette servire alla formazione di Marco Polo. Ma per dei buoni mercanti appariva opportuno anche un'ispezione dei contesti, un itinerario esplorativo, un viaggio preliminare nei luoghi dove andare a fondare una mercatura solida, profonda. È emblematico in questo senso, è proprio la vicenda della famiglia di Marco Polo, perché prima del celebre viaggio da cui poi trarrà Marco Polo il suo milione, prima di questo celebre viaggio, che è un viaggio iniziato nel 1271, il padre di Marco Polo, Niccolò, e lo zio Matteo avevano effettuato un'ispezione, erano partiti in missione negli anni 60 del 200, cioè circa una decina d'anni prima del viaggio di Marco Polo. E questa missione, questa ispezione aveva condotto i due pionieri a incontrare, vedete quello è il viaggio, a incontrare Kubilai Khan. Kubilai Khan era il nipote diretto di Gengis Khan, sempre ricordiamoci noi, i mongoli, il loro dominio, eccetera. E questo contatto era servito a capire le intenzioni di Kubilai Khan, del capo di questi mongoli, che in parte si erano sinizzati, cioè avevano assorbito la cultura cinese, però imponendosi sulla Cina ne avevano dischiuso i confini, cioè la dominazione mongola, se prima la Cina era chiusa, refrattaria ai rapporti con l'Occidente, adesso invece favoriva l'apertura delle frontiere. E Niccolò e Matteo Polo, in questo viaggio preventivo, chiamiamolo così, si erano resi conto che i mongoli, i Gengis Khanidi, con gli artigiani e i mercanti, avevano un ottimo feeling e che quindi avrebbero finito per aprire definitivamente la scatola dell'economia cinese agli imprenditori occidentali. In questo impero cosmopolita, infatti, gli stranieri potevano muoversi liberamente, con addirittura la priorità nel trasporto delle merci. E poi un mercante europeo, centroasiatico, che si fosse spostato in Cina, non veniva gravato dalle tasse doganali. Immaginate che differenza rispetto ad oggi, quando ci si sforza di soprelevare barriere e dazi. E chi andava a commerciare o a effettuare impresa in Cina, doveva soltanto, aveva l'obbligo di cambiare l'oro e l'argento con la cartamoneta. La cartamoneta che è stata una delle più famose invenzioni, insomma, cinesi. Ora, i fratelli Polo, Niccolò e Matteo, padre e zio di Marco, non intendevano lasciarsi fuggire tutte queste chance, e quindi, tornando in laguna, ripreso fiato, ripartono per il Catai, per la Cina, e di nuovo si mettono sotto i piedi migliaia e migliaia di chilometri, fra montagne e deserti, calure inenarrabili, gelate al limite dell'umano, per tornare da Kublai Khan. Stavolta, insieme a loro, viaggia Marco Polo. E arrivano nel 1275, dopo un po' di travagli, arrivano in effetti alla corte del Gran Khan Kublai. Ora, quello del Gran Khan era un impero dalla duplice anima, una che aveva messo radici in Cina e l'altra che però non aveva dimenticato la Mongolia, una con un portato urbano e l'altra nomadica. Per cui c'erano due capitali, c'era Pechino, Kambalik, la capitale di sotto, emblema di questo vivere cittadino, e c'era, più a nord, Shandu, Kaiping, detta o l'uno o l'altra, capitale di sopra, che era invece affacciata sulla steppa, quindi sul passato mongolo, mentre Pechino era affacciata sul futuro, un po' Shandu era affacciata su quello che i mongoli erano stati. E qui, appunto, nell'estate del 1275, a Shandu, arrivano i polo. Perché? Perché di estate Kublai Khan preferiva evitare l'afa di Pechino e rifugiarsi in questi spazi più freschi della parte settentrionale del suo dominio. Ora, Kublai Khan, questi sono i polo che arrivano alla corte di Kublai Khan, e questo è Kublai Khan, stringeva nelle proprie mani gran parte dell'Oriente, dominava un territorio enorme, steppe sterminate, città popolosissime, pascoli sconfinati, campagne minuziosamente coltivate, soprattutto in Cina, miniere, empori, vie terrestri, vie acquatiche, deserti, oasi, montagne, fiumi, ma di tutto quell'impero, Kublai non conosceva personalmente che qualche distretto, poche province, le terre circostanti ai centri del potere, e non poteva quindi percepirne direttamente ogni compartimento remoto. E quindi, che faceva Kublai Khan? era solito mettere in circolazione degli emissari che raccattassero informazioni complete e che gli regalassero in qualche maniera delle porzioni di quel sapere che gli era inibito dalla posizione dei principi e dei principi e quindi dal dover stare più o meno fermo in qualche località. Però, di rado, i rendiconti di questi suoi emissari, di questi suoi inviati, lo soddisfacevano. Il Gran Canna aveva bisogno di racconti più coloriti, di racconti più vivi, più veri, voleva racconti di persone, di eventi, di paesaggi, di storie di vita, voleva il racconto della vita cinese. E quindi è qui che si inserisce di nuovo Marco Polo. Perché Marco Polo viene prima accolto nelle sale rege, ma appare subito a Kublai Khan di intelligenza vivace, di favella appropriata. Sapeva raccontare Marco Polo e non c'era nessuno che sapesse raccontare meglio di lui. Amava dettagliare le sue narrazioni, cogliere le sfumature dei fatti, esprimere tutte le piccole e grandi specificità che potevano, in qualche maniera, tinteggiare una descrizione, che la rendevano viva, che la rendevano vivida. Ma questo dipendeva da che cosa? L'abbiamo detto poc'anzi, dalla forma mentis. Perché per un mercante di razza, per un mercante che si era formato, ogni specifica abitudine, ogni tratto caratteristico di una comunità o di un territorio doveva risultare interessante. E questi dettagli osservati si stagliavano nella mente e saltavano fuori al momento opportuno. Questo era il patrimonio, questo era il talento di Marco Polo. Una persona così dovette fare presa su Kublai Khan. E quindi fu allora che davanti a Marco Polo si spalancarono le porte del Katai, le porte della Cina. La Cina delle campagne, campagne che potevano essere povere, dove con gli stranieri di passaggio non si esitava talora a praticare la prostituzione per tirare a campare. Ma poi c'era la Cina della grande Pechino, la Cina dei ponti spettacolari, la Cina dei tanti corsi fluviali, delle maestose città della costa orientale come Yanjou, Sujou, Anjou. Marco Polo rimase abbagliato da Kambalik, da Pechino, una città traboccante di quartieri per artigiani e per mercanti, dove arrivavano quotidianamente tonnellate di mercanzie le più svariate, le più costose. c'erano perle, gioielli, seta, generi di consumo di ogni tipo che attiravano nugoli di compratori e di venditori e appunto le transazioni si effettuavano con le banconote di vario taglio. Muovendosi per la Cina, Marco Polo poté avere cognizione di un sistema viario perfettamente organizzato sulle tante arterie che innervavano la Cina. Perché? Perché sulle strade erano dislocate, come nell'Impero Romano, a distanza regolare, delle stazioni attrezzate per il riposo dei viandanti e per il cambio delle cavalcature. Non si connetteva diciamo in Cina il tessuto viario non era fatto soltanto di strade ma anche di vie acquatiche. Ricordiamo per esempio il grande canale scavato fino al XIII-XIV secolo che con i suoi 1794 km di lunghezza congiungendo Pechino con la città di Anjou è il corso artificiale più lungo del pianeta. E quindi questo potere della dinastia degli Yuan un termine che riprendendo gli esagrammi degli I Ching significa grande origine o forza primordiale se le erano dati i mongoli questo nuovo nome dinastico ebbene diciamo questo potere manifestava glorificava se stesso in qualche modo con l'esibizione delle acque irregimentate di fonti di laghi artificiali di giardini di canale e quindi cosa ci dobbiamo immaginare Marco Polo non dovete trovarsi poi tanto male in questo territorio così pieno di acqua perché? Perché proveniva da Venezia quindi questa osmosi terraquea che lui aveva vissuto da veneziano in qualche misura doveva essergli familiare soltanto che in Cina tutto assumiva delle forme e delle proporzioni inimmaginabili per esempio una quindicina di chilometri a sud-ovest di Pechino c'era un viadotto fenomenale costruito prima degli Yuan nel 1189 cavalcava le acque con una miriade di archi e pilastri in marmo era il ponte Lugu che oggi sulle carte geografiche ve lo mostro in un'immagine contemporanea viene detto Marco Polo Bridge quindi il ponte di Marco Polo adorno di queste statue di leoni che dovette apparire a Marco Polo che lo descrive ampiamente tanto largo da consentire il transito di 10 cavalli affiancati e sotto le arcate di questi ponti le correnti sospingevano i vascelli che muovevano le mercanzie dell'entroterra e queste merci con loro brulichio ecco che si spostavano soprattutto sui grandi corsi fluviali come il fiume azzurro questa immensa arteria mercantile trasportati per ogni dove spezie e aromi riempivano pervadevano la Cina e quindi per esempio un elemento che ricorre molto nel racconto di Marco Polo è lo zenzero un articolo diffusissimo ma poi c'era seta industria tessile con ricami d'oro il corallo il corallo che veniva particolarmente tenuto in considerazione come elemento pregiatissimo al tempo di Marco Polo e della società cinese Marco Polo dovete conoscere molte cose faste e miserie non soltanto la grandiosità di Pechino ma anche i problemi sociali perché Marco Polo ci racconta anche delle ristrettezze che angustiavano il popolo e quindi dei tanti bambini che nelle città venivano abbandonati per strada dai genitori genitori indigenti e che lo Stato provvedeva a tenere negli orfanotrofi c'era un sistema organizzato in questo senso oppure affidava in così affidava a nobili facoltosi ecco Marco Polo però registrò analiticamente la società e i costumi della Cina come nessuno altro aveva fatto prima e infatti egli è un po' il primo geografo e anche il primo storico del Catai diventerà un'autorità anche oggi sono gli stessi storici cinesi a tenere in gran conto le informazioni del grande viaggiatore veneziano che appaiono basilari per ricostruire una storia della Cina altrimenti non conoscibile e che sempre più trovano conferma man mano che si approfondiscono le ricerche prendiamo per esempio la descrizione che Marco Polo ci ha lasciato dell'antica città di Anjou dove attualmente si trova una statua vedete dedicata al veneziano apro parentesi quante statue sono dedicate a Marco Polo in Italia credo di non conoscerne tante ebbene in Cina Marco Polo è ben ricordato ben conosciuto omaggiato e Anjou viene ricordata come una città piena di strade di canali che affacciava con le sue ville sontuose su un laghetto al cui centro c'erano due padiglioni arredati con mobilia lussuosa e vasellame di pregio per chi volesse festeggiare nozze convivi su questo laghetto si muovevano dei battellini accessoriati di tutto punto che avevano comode poltroncine sopra e sotto coperta e nella città di Anjou noi abbiamo delle strade perfettamente lastricate in pietra abbiamo piazze abbiamo brulicare anche qui di mercanti pullulare di mercanzie c'era di tutto verdura frutta pesche gialle bianche pere riso spezie carne di capriolo di cervo di fagiano di anata di agnello anche carne di cane si consumava e sulle tavole delle pescherie guizzavano pesci di mare o di lago che Marco Polo ritenne grassi e saporiti perché l'immondizia cittadina veniva riversata in acqua e quindi si convertiva in un eccellente mangime ittico e poi c'era questo pepe che fluiva a Iosa al ritmo di quasi diecimila libri al giorno l'assenza di invidie il rispetto per le donne il senso benevolo dell'accoglienza erano i pregi di una città come Anjou che finì per sedurre Marco Polo e alla seduzione del veneziano che era dobbiamo dirlo particolarmente sensibile al fascino femminile non erano estrane le dame di piacere che egli descrive ad Anjou le si potevano usare anche da lontano per i profumi in cui si fasciavano e le si trovava per tutta la città con il loro seguito di fantesche in alloggi traboccanti di finezze delle prostitute troppo semplice queste intrattenitrici cinesi di Anjou erano più simili a un concetto di geisha giapponese o di etera greca erano infatti donne colte ed esperte non solo nel regalare carezze e lusinghe ma anche nel dialogare nel trovare parole adatte a ciascun uomo poi Marco Polo ci ricorda come i precetti confuciani avessero influenzato larghi strati della società nei territori dello Shandong lo Shandong è la provincia nata di Confucio appunto e quindi il viaggiatore veneziano ci racconta delle ragazze dello Shandong particolarmente morigerate rifugivano i balli rifugivano la baldoria se dovevano uscire lo facevano soltanto con i parenti tenendo sempre lo sguardo basso per non incrociarlo con gli sconosciuti e avevano come grande valore quello dell'illibatezza e quindi questa conservazione dell'illibatezza fa dire a Marco Polo che era perciò che le donne cinesi dello Shandong camminavano a passettini piccoli per non allargare più di tanto il compasso delle cosce e compromettere quindi la propria integrità ci dice Marco Polo nel milione e quindi non può fare a meno il grande viaggiatore veneziano nel confronto fra le donne che trova in Cina in questo grande spazio cino-mongolo non può fare a meno di paragonare questa compostezza delle fanciule cinesi dello Shandong con la diciamo così la sguaiataggine delle donne di origine mongola che addirittura dice lui non mostrano remore nell'andare a cavallo a gambe larghe col serio rischio di rimanere deflorate dice Marco Polo e quindi molto spesso si sofferma su sulle donne dei luoghi che attraversa che frequenta che incontra frequenta anche i porti cinesi Marco Polo e si entusiasmò nel vedere negli anni 90 dopo quasi 25 anni di permanenza fuori lontano da Venezia si dovette entusiasmarsi per quegli enormi vascelli a 4 o a 6 alberi che erano ormeggiati nei pressi degli approdi cinesi e proprio su uno di questi grandi vascelli Marco Polo torna in un viaggio acquatico di ritorno non terrestre torna a Venezia dove giunge nel 1295 e al termine di questo suo soggiorno orientale Marco Polo avrà tesaurizzato un intero mondo per sé per le proprie iniziative commerciali per l'impaginazione delle proprie memorie ricordi da tenere sedesti al ritorno a Venezia nella casa veneziana di San Giovanni Crisostomo dove oggi si trova il teatro Malibran a Venezia e che ritornano nel testamento di Marco Polo Marco Polo muore nel 1324 sono 700 anni dalla morte di Marco Polo quest'anno e il giorno della morte 9 gennaio del 1324 ci lascia un testamento in cui compaiono come l'ascito alle figlie Belela Moretta e Fantina stoffe asiatiche copricapi mongoli rabarbaro bottoni di ambra sete istoriate muschio e la paiza le tavole auree il lascia passare che i can concedevano soltanto alle personalità più in vista il simbolo questa paiza di un'impresa eccezionale appunto quella di Marco Polo tutto ciò dovete confluire come sappiamo nel milione frutto di una ricomposizione delle memorie di un laborlime costante quasi ossessivo guardate che cosa si inventa il destino Marco Polo viene catturato dai genovesi arriva a Genova prigioniero e qui incontra un personaggio che a sua volta Pisano era stato catturato sempre dai genovesi e cioè un romanziere rustichello da Pisa la vulgata vuole che si incontrassero in prigione ma noi non dobbiamo intendere le prigioni di uomini importanti o di letterati o di uomini facoltosi come Marco Polo come prigioni maleodoranti insieme a tante altre persone no erano semplicemente ostaggi tenuti in prigioni dorate erano tenuti presso famiglie in attesa di scambi di prigionieri quindi le condizioni di vita di Marco Polo come anche di Rustichello prigionieri dei genovesi non erano quelle delle persone che si trovavano nelle carceri della Superba erano come dire merce importante per scambiare per scambiare ostaggi e quindi conoscendosi a Genova Marco Polo e Rustichello cominciano a scrivere insieme questo libro che è il Milione questo Milione che dopo la liberazione Marco Polo continuerà a scrivere da solo mentre all'inizio lo scrive insieme a Rustichello poi continuerà a scrivere da solo a Venezia e sappiamo questo perché perché nel Milione sono contenute informazioni successive alla liberazione di Marco Polo quindi quando Marco Polo lo redige per proprio conto senza farsi più aiutare da Rustichello e i contenuti del Milione continuano a stupire per esempio ancora una volta rispetto a quello che era quella che era la sensibilità di Marco Polo per le donne suscita e così colpisce sempre la scena delle donne dell'Afghanistan che si riempiono le natiche si imbottiscono le natiche con spugne per essere più seducenti oppure ci racconta Marco Polo dei continui concorsi di Miss Impero Mongolo indetti per scegliere l'ennesima sposa dell'insaziabile Kublai Khan sbalordisce per esempio o anche ci dà qualche tocco di comicità arablesiana il racconto dell'urina congelata mentre esce dopo una sbronza nelle lande della Siberia e poi troviamo lo sbiancante per i denti del Kerala una regione dell'India con la foglia di Betel mescolata calce canfora da Romi troviamo la tenerezza delle nozze virtuali celebrate con le figure di carta di giovani sposi morti prematuramente e poi sempre questa perenne cascata di gemme di spezie che inondano ogni porto ogni luogo di questa Asia ricchissima civilissima ferocissima sensualissima vastissima è l'epopea di chi per primo seppe varcare la soglia della differenza con il milione Marco Polo potesse olennizzare e perpetuare se stesso la propria città Venezia il proprio status di mercante come uomo nuovo uomo nuovo che rivoluzionava che svecchiava che disincagliava la civiltà europea e cristiana dalle sue vecchie convinzioni e convenzioni era il mercante che proprio mentre guardava a oriente con Marco Polo col milione si auto celebrava nelle vesti di uomo dell'occidente e a essere quindi la glorificata era l'immagine del nuovo eroe senza paura questo eroe pronto a lanciare il cuore oltre l'ostacolo a proiettarsi laddove nessuno aveva l'ardire di andare e quindi esplorare universi inediti scoprire gli altri per riconoscere meglio se stessi aveva significato trasformare il mito dei cavalieri della tavola rotonda e quindi fare dell'Oriente il Graal e in tal modo Marco Polo diventava il nuovo Parsifal con le sue gesta con i suoi scritti Marco Polo avrebbe quindi rivelato all'Europa l'immensità di luoghi fin lì soltanto immaginati come abbiamo detto all'inizio soltanto evocati Marco Polo avrebbe squarciato la miopia dell'Occidente esortando a guardare a guardare più avanti esaltando lo spirito mercantesco a non fermarsi mai a non dare niente per scontato a cercare a ricercare ancora ma pur sempre con quella attenzione con quella cautela con quella acribia necessarie ad affrontare compiutamente l'altro e l'altrove presupposti cui un grande viaggiatore non avrebbe mai rinunciato tanto più nella predisposizione del suo ultimo viaggio grazie 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 ancora grazie